Buongiorno Buongiorno. Fanno ora. Voglio mettere una luce, se no vi fermi anche. Ciao, ciao, ciao. Va bene. Sì, sì. Fanno banca, fanno banca. Grazie. Buongiorno. 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 Il Colivoni va in Cassi Supergazion al primo gennaio. Sì, allora. customized per il panino. Mancava il caffè. Au manquito al marco. A le 7.00 tutti dentro. Uo fa il panino dei paфè. Buongiorno. Non c'è problema. Venite tutti dentro. Nicola snap no. Eh, no. E' no la mattina. No poi no piedamoo. D'accordo. Ciao. Buongiorno. A buio ci salve. Ciao. 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 è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte è anche il tuo Bruno è un operatio? ah bello che è il dito buongiorno benissimo a voi benissimo ciao come stai? che lavoro esatto non sei più sono invece operati non, non, non